Allora, lo dai tu l'annuncio? Ok, va bene, lo dico io. Allora, ieri anni finalmente abbiamo deciso di sposarci. È successo tutto all'improvviso. Io ho guardato negli occhi. Mi si è bruciata la retina, però... L'uomo del pazzino è troppo bello per quei capelli. Sono la fine del mondo. Ogni volta li tocco e mi brucio tutte le mani. Sì, sì. Insè che scema chissà. Ma poi, io vorrei sapere come scrivi. Io va a mettersi con il soffrocio di rosa. Sì, ti, tu, soffrocio. Non credi, non scioglie. Scusa sempre in tira. Ci vieni a sputare cimucca. Non c'era la niente. Sì, ma non è giusto, sai. Allora, sentite una cosa. Chi è che vi sposa? Io, io. Come? Io, io faccio il parrino. Io sono il più bravo e quindi... Ma che fare? Sì, sì, sono detto, racchia. Io faccio il parrino. Io, io sono il migliore. E quindi sono... Faccerli, faccerli posti. Ma che facevo? Faccerli posti. Ma che bello. Faccerli posti. E dove vi sposate? Io tra casa mia. Un ricido, un ricido. Ma tu ti metti con lei, giusto? Certo, eh. Certamente. Che cazzo stai dicendo? Cos'è inutile? Io ti sputo in bocca. Il mio è mio. Oggi vuole casannaca. Che è, che cazzo stai dicendo? Cos'è? Non potete... S'ammazzo. S'ammazzo la mia? Ora ti schiacchio mucca, eh. Sì, io che bello. Chi si ammazzo? Allora, ora... Ora... Che fa? Ammazzo la mia. Ammazzo. Un ser babbiano. E mio, vedi che ti metto in culo. Ma che fa per così piccino? Fata. No. Andiamo, andiamo alla. Vediamo che sa fare. Però un testo è mascolo. Ora faccio te. 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 Allora, come siete rimasti? Allora, come finisce qua? Allora, oh. Eh, che, se lo paro a la città? Eh, praticamente io faccio i parli, no? E ti non può essere utile se sposa, no?